Dove siamo? Da questa inquadratura epica non si capisce. No, si capisce. Siamo in The Vanilla Craft. Eccoci qua, ho fatto delle modifiche. Cos'è sta esperienza? Non si prende? Si, si è presa. Qua sotto ci sta uno storage dove metteremo tutte le casse. Qua ci stanno le pecore che è un recinto enorme, si vede alla fine però. Lo devo allargare ancora. C'è però finito... Ci avete presente, no? Che io avevo tutta la cassa qua piena di terra. Non ci sta più la terra. L'ho usata tutta per far qua perché poi ci sta un fiù, un lago. L'ho scavalcato tutto, poi è finita pure la fame e dovevo mangiare queste bistecche di maiale crude. L'obiettivo di oggi è quello di rimodernizzare la casa, quindi renderla un po' più ampia. Non da dietro, non da qua né di là, ma di qua. Più o meno, arriverà più o meno qua. Più o meno su questo blocco arriverà, quindi di un bel po' la espanderemo. Ci abbiamo già la pala. Ah, qua c'era esplosato il creeper all'inizio della serie. bene. Ancora ci sta il buco per terra. Beh. Beh, 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 bene. Che cos'era questo rumore incredibile? Non si sa. E invece si sa. Vabbè. È mia mamma che butta limondizzi. Ecco, sto scava troppo. Vabbè, la facciamo fino a ca', no? Allora, prendiamo la terra. Cos'era sto rumore? Ho sentito tipo... Da questa parte. Verso il villaggio. Sì. Ma cos'è? Tutti sti animali ci stanno. Poi tutti bloccati. Ma che è? Ah no, cosa stanno a muovere? Boh. Allora, fino a qua facciamo. Ok. Scaviamoci tutta la bella casa. Quindi già ci mettiamo il pavimento di Cobblestone. Ok. No, ho sbagliato. Un altro blocco di qua. No, invece altri due blocchi erano, vabbè. Sono un po' stupidino, eh. Io nel Vanillacraft. Vanollacraft. Non l'ho scritto su Instagram. Ma io sono tutto scemo, vabbè. Vanillacraft. Nuova serie, eh. Vanillacraft. Boh. Allora, procediamo qui. Si è rotta la pala. Togliamo prima sto standardo. Dei pillaggeri. qua. Stendardo. Come si chiama? Stendardo abitatore. Abitatore, no? Abitatore. Ma che significa? Non lo so. C'ho un sacco di pale qua dentro, quindi è inutile che me le faccia. Poi ste cas... Mi continuo a sentire i rumori sotto casa, vabbè. Poi vi faccio vedere anche nello storage. che geloso lo sca... Ma scusa, eh. Mi si è rotto pure lo scudo. No, vabbè. No, no. Mi si è scassato lo scudo. Ma dai. Ma io avevo fatto... Ma è illuminato poi. Non lo so. Mettiamo un altro po' di torce. Ma che cavolo. Boh. Ma io non lo so, eh. Abbiamo pure un'altra due torce qua. Ma non lo so. Vai, riempiamo tutto di torce. Ma che cavolo. Due zombie normali ci stanno? Eh, normali. Sì. Quelli... I villager zombie. E poi ci stanno quelli quadrati. No, i scheletri. Quelli quadrati. Tutto quadrato. Eh. Vabbè. Allora. Mi sono shiftato per qualche strano motivo. Che noi non sappiamo, eh. Dai. Ci stiamo mettendo un sacco di tempo per scavare questa terra, eh. Mi sa che era meglio la pala d'oro. La pala d'oro. L'oro non l'ho trovato perché la miniera è piccolissima. Allora, tappiamo un po' qua sotto, per favore. Ok. Ora questo è obbligo perché... Ecco. Andiamo pure a dormire. Però inizio già a farmi un pochino di pavimento in cobblestone. Tanto prima che vengono i zombie. Poi mi dà fastidio registrar di notte. Io registrerei, però dopo non si vede niente per voi. Io ci vedo, eh. Però non so come viene la registrazione. Andiamo a dormire. Ok. C'erano mostri nelle vicinanze, però mi ha fatto dormire lo stesso per qualche strano motivo. Ma se faccio così sul microfono che succede? Boh, non lo so perché non l'ho mai fatto così sul microfono. Dopo... Senti che cacchio è venuto. C'è uno zombie nella caverna. Nella miniera. Ma schiatta. No. Cioè, non è... Cioè, guardate, non è profonda niente. Qua dobbiamo scavare, sta parte qua sopra. Perché se voglio fare... Un'altra cosa qua. Poi devo spianare tutto qua. Devo aggiungere pure dei blocchi. Qua è tutto pronto. Quasi. Il grano. Questi due ancora, no? Pure quello da dietro, no? Mi sembra. Poi le barbabietole che non servono a niente. Lo farò giusto per abbellire un po' il vanilla craft. Quelle le ho messe. Il grano mi serve perché quando non ci stanno gli animali vicini e finisce il cibo... Ma una pecora si è trasformata in mucca. Vabbè, pure un pollo si è trasformato in mucca. Eh, sì, un pollo si è trasformato in mucca. Vabbè, siamo verdi. Ho un altro e tre stack di pietra in questa cassa. Che cacchio ne so succede? Ok, prendiamo un altro stack di pietra. Bene, 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 bene. E lo piazziamo qua. Mettiamo questi blocchettini di pietra. Scusate. Per la canzone orrenda che sto cantando io. Io, ma che cacchio sto dire, raga? Ma sta parte qua quasi quasi non la rispondevo. Perché poi qua il percorso è strettissimo. Cioè, sono quattro blocchi di percorso. Vabbè, dai. Cos'è qui? Se mi calpestano il grano. Io vi giuro che gli spacco la faccia. Ma vai a cagare. Oh, come ti permetti. Ma quante pecore ci stanno? Hai capito che mi serve la lana, eh? Ecco, perché sono coltivate tutte queste pecore. Eh, coltivate, sì. So piantate tutte queste pecore. Piantate. Ok, un altro stack di pietra è finito. Andiamo a prendere un altro stack di pietra dalla cassa. Ok, e mettiamolo. Ecco. Pure sbagliato. Ok, diamo un po'. Allora, è benissimo. Ora ci servono 200 stack di legno che io non ho. Perché ho fatto tutti i cancelli, là. E ho finito tutti i legni. Ho messo avanzati due stack di cancelli. Eh, no, di recinzione. E due cancelli, me pure. Quindi, niente. Eh, sì, dove è andato il locco di Movizen? Vabbè. Eh, il legno lo dobbiamo riprendere, quindi. Andiamo a prendere pure il legno. Dall'isola del legno. Che è tutta quella là dietro. Che ci si passa andando di qua. Che ci devo fare un ponticello. Ponticello. Quale albero? Taglio. Questo pure va bene, dai. Qua ancora ci stanno... Dai, taglio questo. Così cresce pure quest'altro. Senza che ripiantiamo questo. Ok. Tagliamo pure questo. Che dà fastidio. Ok. Benissimo. Facciamo questo. Ok. Pure questo. Tagliamo questo. Ma pure questo, dai. Il di legno ce ne serve un botto per fare la casa. Pure perché la voglio fare più alta. Tipo due piani. No, sì. Due piani minimo. Perché poi comunque una casa su Minecraft secondo me deve essere grande. E soprattutto confortevole. Cioè non è che devo dormire la vita reale. Però. Ma quei cosi nell'acqua non si rovinano. I lama. I lama nell'acqua. Eh, non c'è una sci. Io scirò l'acqua. Una boccia. Ok. Noi, di zombie, ragazzi. Non so se è normale. Però. ci abbiamo quasi due stack di legno prendiamo il legno cominciamo costruire devo sostituire questi blocchi qua ma quasi così sì dai sì c'è una bella rimodernizzata nel prossimo episodio che già siamo a 10 minuti che vediamo di non sgarrare qua ok saliamo sopra perché voglio espandere qua quindi ecco sapevo io voglio farla più alta pure quindi rompiamo il tetto mi dispiace perché ci abbiamo messo 10 episodi no quanti episodi ci abbiamo messo per costruire sto tetto non lo so comunque l'ho costruito off camera se vi ricordate non in un video ma anche perché costruire un tetto solo in un video non mi sembra una gran cosa da fare no e poi abbiamo cominciato la nuova serie minecraft aerobrine l'ho chiamata perché io non ho messo niente un mondo vanilla come questo però qua non abbiamo niente di strano ma infatti vedete che io non c'ho c'ho la resource pack ho messo una resource pack poi metto pure qua che è real light però quello non includeva aerobrine o steve anche ci abbiamo visto e quegli zombie strani pure abbiamo visto no vabbè sì però non mi dico è venuto aerobrine pure qua perché io non è aerobrine c'ha i cani abbiamo visto aerobrine con gli enderman si con gli enderman l'abbiamo visto l'ultima volta no l'ultima volta l'abbiamo sempre visto con gli enderman boh gli enderman non dovrebbero essere segno di aerobrine dovrebbero essere più i cani cioè questi ho finito di nuovo la fame i lupi le torce di redstone da redstone per terra noi abbiamo visto nulla e basta mi sembra sì vabbè solo questo poi di steve vabbè ci stanno altre varianti di steve ci sta steve gold steve normale steve gesù steve green steve gesù ci stanno due tipi di steve gesù no no vabbè io se non mi shifto in questi zombie vabbè comunque finiamo almeno di chiude la casa ma io non penso anche che facciamo non so parla più che facciamo no raga non so più di boh secondo me non facciamo anche in tempo a finire di distruggere il tetto dai metto pausa momento aerobrine non è vero ok non ho messo aerobrine anche perché non non penso non lo so ci sono mod che supportano l'aggiunta di aerobrine comunque qua ci abbiamo più di due stacche di legno un'altra volta sì due stacche di legno abbiamo fatto no una stacca di legno comunque mi si è rotta l'ascia momento aerobrine non è vero non l'ho messo io comunque penso che si è capito perché ma dopo ho sentito l'acqua aperta mi sono cagato addosso perché stiamo a parlare di aerobrine però so che non ti dovrebbe parlare della nuova serie nella serie vanilla craft però dai secondo me non fa niente vabbè comunque ho distrutto il tetto ecco mi so pure che ho distrutto le gambe però chiudiamo finiamo di chiude qua almeno così e qua dobbiamo distruggere l'ingresso questo muro intermedio pure dobbiamo spacca quindi iniziamo distruggendo tutte le porte che ci stanno nella casa pure sto tramezzo no eh sì sì vai via tutto via dopo rimodernizziamo tutta la casa magari non lo so facciamo un video più lungo sai di 20 minuti vai come i vecchi video no 20 minuti 30 minuti di video vi ricordate minecraft nuovo aggiornamento 40 minuti insieme vai 40 minuti di video no ovviamente ci metto pure un sacco di tempo per caricare pure se mo c'è la connessione veloce però non troverò per sempre veloce ve lo assicuro sarà per un mese circa meno di un mese penso perché comunque si paga tanto perché non abbiamo cambiato la connessione in casa ma è il telefono sono i giga no vodafone 4g eh no sto muro qua non lo dovevamo scassare manco il vasino eh il vasino vabbè il vasino quello che ci fanno la cacca i neonati che schifo che cosa ho detto vabbè ok se mi fanno saltare in aria la casa se mi fanno saltare in aria la casa porca miseria e bestemmio guarda quanti mob i creeper no non esplodere no non esplodere cagare ok ma muori dai shotta tutto via headshot headshot wow scusate finiamo di chiudere qua stavo dicendo ok vediamo un po di stare attenti 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 in questo modo riusciremo a fare tante cose in questo nuovo vanilla craft perché questo è il vanilla craft s2 però eh quello era s1 no era s normale tipo galaxy s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s20 s30 s40 che non esistono ancora vabbè io sono tutto accelerato comunque non lo so se si era capito eh ma io penso che si era capito ci sta lo spazio di porte eh si è di porte ci stava prima ci sta pure mo beh per un blocco non mi è bastato ha bastato ma io sono tutto cretino a parlare ma ok mo eeeh che dobbiamo fa' le porte no le porte già ce le abbiamo ma si ne facciamo altre vai sei porte ce le abbiamo intanto c'ho un legno da consumare c'ho l'isola del legno dall'altra parte si vedevano pure gli alberi più alti ok dai non è tanto stretto il passaggio alla fine quasi quasi ci faccio pure una strada ma com'è che lagga minecraft no perchè hai tirato una laggata mo vabbè non fa niente purtroppo che non è parallela eh non è parallela a niente sta entrata però non fa niente è bellissima la casa così mo ci faccio una bella scala a chiocciola qua che sale tutta bella al piano di sopra aaaah una specialità le altre quattro porte due le devo mettere qua sotto perciò non fate così le sai magari più avanti sì più avanti più avanti due porte le devo mettere qua sotto e due porte per la camera da letto benissimo qua poi vabbè poi lo facciamo nel prossimo video dai siamo già a venti minuti chiudiamo con l'uccisione di una pecora chiudiamo ci salutiamo in casa quindi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video che poi sto carica tre video o quattro video al giorno cinque video al giorno io ne posso carica pure dieci video al giorno eh però non so ditemi voi se vi piacciono tutti sti video al giorno ciao scrivete sotto nei commenti se vi piacciono i video al giorno tutti sti video al giorno dieci video al giorno ciao porca miseria che schifo che schifo che schifo ciao